Ciao a tutti da Giovi e Giovi. Oggi prepareremo la crema di ricotta alla Giovi e Giovi. Perfetto! Gli ingredienti per questa crema sono 300 grammi di ricotta di pecora fresca che noi abbiamo lasciato un giorno a gocciolare nel frigo. Ma no dentro il frigo eh! Nel piatto! E il 30% di zucchero a velo si assorbe prima e dà più delicatezza alla ricotta. Quindi sono 300 e 3 per 3 è 9. In questo caso 90 grammi di zucchero a velo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!